Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Unity Stiamo per fare un assassinio di Sivea Nessun versaglio è impossibile Fuori dai piedi, forza! Dove diavolo è? Se non vedi nessun punto debole, creano Hai controllato la cattedrale? Sì signore Bene, via Siver che lo aspetto dentro L'opportunità è una State ancora Voi! Riportatemi le mie chiavi! LADRI! E se ogni approccio fallisce Perché non ti sacrifichi per la causa, la tua vita per la sua Ma secondo te perché no? Era il motto levantito Idiota Vuoi che usi il bugna nel pieno giorno, visto che da qui posso farlo? Manda un messaggio potente Farò a modo mio Sta a te decidere Assassin Ragazzi, in inglese è molto più figa sta parola però, scusate In italiano è Assassin In inglese è Assassin Beh, ci sanno fare con le riprese comunque i ragazzi di Ubisoft Vabbè, uccisioni, entrate, campane, entrate segrete C'è un'entrata segreta però io non so dove sia La prima cosa che facciamo è andare a prendere le chiavi Perché senza non riesco a entrare Quindi Appunto, uccidiamo questo Senza che quell'altro si ne accorga E poi scippiamo Questo qui la chiave Giusto per non fare una strage Perché non è proprio carissimo Ora dobbiamo andare a uccidere Duchenneau Uccidiamo Duchenneau In questo modo potremmo uccidere quell'altro codardo Lui, come si chiama Si vea Dentro il confessionale Duchenneau è lì Bene Potremmo fare un po' di casino volendo però Stiamo buonini Bene Adesso non ci resta che entrare L'entrata Non so esattamente dove sia Però so che ce n'è una dalle parti del Qua dovrebbe esserci un montacarichi Se noi da qua Andiamo un pochino più in qua Mi pare da queste parti qua ce ne sia una Ecco, lì esatto Quindi Interagiamo E scassiniamo No, non scassiniamo Apriamo perché abbiamo le chiavi ragazzi Allora, non le farò le missioni Secondarie tutte Farò soltanto Non far Cioè, proverò a fare Non far scattare nessun allarme Tanto non mi riuscirà Perché non mi riesce mai Cioè, mi è riuscita Ci sono riuscito una volta però Non mi dire mai Mai, mai, mai Mai, mai Ma perché ho sfiga riga Quando io provo a fare queste cose fatte bene Non mi dire Quindi adesso lo sto facendo così Un po' anche alla cazzo Mi verrà È sicuro È pressoché matematico Parlo meglio io di questo rincoglionito latino Veloci, veloci Bene Bam Aspetta qui Che nessuno ci distrutti Si vede Signor Latouche Sono qui per il re dei mendicanti Seguitemi Intrighi fra ratti Pomposo idiota Se gli metto le mani addosso Ebbene Che c'è Tanto importante Da dover lasciare il ballo di mia Questo è l'omicidio Tutto bene signore Troppo champagne del re? Si vede Vieni via Bene Adesso non ci resta che fuggire Eh, la fai facile Fuggire dalla zona Con questo qui Che continua ad andare avanti e indietro Il sangue Che chissà come mai Non se ne sono accorti Dai 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 Ci siamo quasi E usciamo esattamente Da dove siamo entrati Ascesa rapida Cento punti credo Non fanno mai male E voilà ragazzi Siamo fuori da Notre Dame Missione completata E sì Voglio anche votare questo ricordo Perché mi è piaciuto E gli do un bel 5 Magari 5 no Ma sì 5 perché Mi piace Mi ha convinto E quindi ragazzi Al prossimo video